uè non fare il barbone da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xiodarone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xiodar e ragazzi daie nove giorni al termine della season numero 9 ne sono successe tantissime anche l'altro ieri ovviamente parlo dell'evento mostro versus robot e la scia che ha portato la nostra il nostro mostro e il nostro robot è veramente lunghissima un sacco di file sono stati aggiunti nei codici sorgenti del gioco giorno dopo giorno ne vengono scoperti di nuovi e le novità che ci stanno portando alla season numero 10 cominciano davvero a formare un puzzle molto molto interessante sembra che le teorie più disparate possano diventare seriamente realtà nel video di oggi infatti ragazzi parleremo dello zero point direttamente dal signor donato mostarda vi voglio dire un pochettino quello che sta per succedere probabilmente alla mappa e al gioco in generale ma parleremo anche di un grande ritorno ragazzi sembra che il piccone marshmallow quello che noi abbiamo tutti o più o meno tutti non sarà l'unico piccone dedicato alla skin che potremmo ottenere e probabilmente ci sarà anche un grande grande ritorno e sarà anche la volta alla season 10 del probabile nuovo concerto virtuale voglio però lasciarvi un pochettino tipo brasare tipo il bacon e vi dirò tutto ovviamente nel video voglio prima ringraziare però tutti quelli che utilizzano il mio codice creator xuderone quando scioppazzate di prepotenza nello shop grazie di cuore ragazzi dov'è per crederci in questo canale per scioppazzare di prepotenza e mi raccomando attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima ieri ho mandato su uno speciale dei 200.000 non vi ho fatto la domandina e la domandina di oggi dovevo farvela anche in un video ufficiale ragazzi che voto daresti all'evento di sabato sera insomma ragazzi tutti oramai l'abbiamo visto sono sicuro che abbiate visto anche il mio video dalla ripresa del drone del fight del combattimento io sinceramente gli do un 7 e mezzo gli do un 7 e mezzo per un paio di motivi motivo numero uno la durata un pochettino corto ma comunque meraviglioso motivo numero due ma non ci potevamo fare niente le modifiche che non sono arrivate alla mappa è più all'otto che al 7 e mezzo però davvero tanta roba ditemi invece il vostro voto qua sotto nei commenti mi raccomando ma quindi ciancio le bande e bando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a vedere il nostro donato mostarda che mi fa la modifica alla sua location diventa the zero point che cos'è the zero point il punto zero il punto zero può essere interpretato in tantissimi modi ragazzi potrebbe essere un punto di partenza potrebbe essere un punto di svolta potrebbe essere un qualcosa di sovrannaturale che faccia ricominciare tutto voglio però ragazzi farvi vedere quello che secondo molti leakers è in realtà il punto zero e lo vediamo direttamente da uno spezzone dell'evento ragazzi proprio mentre il mostro come vedete si dirige subito al centro di sponde del saccheggio nel tentativo di rompere il guscio di metallo cosa che non riesce a fare e da qua invece ragazzi stesso punto preso dal robot che invece riesce a perforare la barriera e ad ottenere quindi questo nucleo sembrerebbe ragazzi che il punto zero lo zero point sia proprio la fonte di energia e poi quello che invece è rimasto della fonte di energia e ne parliamo fra un secondo intanto come vedete una potenza assurda del robot per mettere al tappeto il cactus ma la cosa che ci interessa di questo zero point ragazzi è appunto il nucleo che è rimasto lì al centro di sponde del saccheggio ed è un nucleo ragazzi che in realtà fa proseguire l'evento giorno per giorno sì ragazzi perché questo quello che state vedendo alle mie spalle era il nucleo il giorno dell'evento quindi sabato ma ieri ragazzi domenica come vedete ci sono delle modifiche interessantissimi interessantissime alla sfera ci sono ragazzi degli effetti speciali che in realtà non erano presenti sabato voglio però farvi vedere un altro video ragazzi preso dai leakers in giro per il mondo sembrano già spoilerate le tre fasi ragazzi della sfera la numero uno l'abbiamo vista poco fa la numero due che è quella in realtà non guardate l'omino che sta volando guardate solamente l'effetto ragazzi perché l'omino che vola ci serve solo per far vedere l'animazione in game per arrivare poi alla fase 3 che come vedete brilla molto di più e è molto più accentuata per quanto riguarda tutte queste scie luminose che sta lasciando molto probabilmente la fase 3 è difficile che arrivi già oggi perché sarebbe veramente un largo anticipo per il termine della season ma sicuramente qualcosa succederà nei file di gioco intanto sono stati aggiunti proprio gli effetti in 3d vediamo le scie queste dovrebbero essere relative alla fase 2 ma abbiamo anche l'onda relativa alla fase 3 il movimento della sfera qua lo vedete non è lo spaccato dovete immaginarlo sferico e per ultimo ragazzi questi voi forse li vedete poco sono gli effetti del fulmine che oltrepassa la sfera insomma ragazzi un evento che in realtà continua anche se piano e che molto probabilmente porterà grandissimi cambiamenti a livello di mappa nella season numero 10 ma andiamo avanti ragazzi con il prossimo argomento ed è proprio lui una delle skin più amate dei giocatori di fortale sicuramente una delle più scioppate parliamo di marshmallow in questa bellissima immagine con lo sfondo dell'evento a parco pacifico quello che è stato scoperto ragazzi intanto ecco chi se non se lo ricordasse il set originale di marshmallow quindi lo spray il ballo la skin manca il piccone è quello classico come si dice il nostro non mi ricordo come si chiama sinceramente il piccone con con precisione però comunque avete capito qual è ma c'è ragazzi un tweet che è stato scoperto ed è davvero interessantissimo che dice in italiano sembrerebbe che la skin di marshmallow potrebbe di nuovo essere vista in game in un prossimo futuro quindi potrebbe di nuovo essere nello shop la cosa che ci fa pensare che sia così è il pack criptato del piccone mellow mallets che cosa vuol dire che è un piccone che si sa già essere doppio ragazzi quindi un nuovo piccone inerente marshmallow doppio e non singolo e quello che ci fa pensare al ritorno quindi di tutto il set potrebbe anche essere il ritorno di uno dei loading screen più rari del gioco che è quello che fu regalato a tutti quelli che hanno partecipato all'evento di marshmallow ma non mi ricordo perché glielo avevano regalato forse non era per l'evento comunque qualcosa forse era per l'evento non me lo ricordo io non fui presente all'evento e infatti mi manca però si potrebbe vedere il ritorno anche del background del marshmallow e andiamo avanti ragazzi in chiusura con un'altra cosa interessantissima quando fu quando eravamo in live ragazzi con l'arrivo della patch 9.4 che eravamo tantissimi avevamo anche scoperto questo interessantissimo disegno che tutti abbiamo detto ma rimettono la default dance no ragazzi in realtà è l'immagine che c'è non è relativa al ballo che vedremo ma è semplicemente la base del nuovo ballo e il nuovo ballo ragazzi si chiama major laser quindi che cos'è chi sono il major laser ragazzi sono un gruppo dance americano che fa concerti e diciamo non hanno ovviamente la fama di marshmallow ma non sono neanche sconosciuti io personalmente non so che cazzo siano però come si dice non sono neanche sconosciuti a livello mondiale e l'introduzione del balletto major laser potrebbe farci un po capire che l'evento del concerto virtuale di marshmallow non sarà l'unico evento a tema del concerto che vedremo su fortnite in realtà qualcosa del genere era già stato un pochettino anticipato proprio giorni dopo l'evento ragazzi io vi ringrazio tantissimo per esservi aggiornati anche oggi su fortnite mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle 8 in live ciao ciao